Il 25 gennaio scorso i carabinieri della compagnia di Rivoli hanno arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione di droga un 24enne albenese incensurato. I militari da stazione di Almese stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato in zona campestre un'autovettura parcheggiata con a bordo quattro persone. Tra gli occupanti, precisamente seduto al lato guida, c'era il 24enne che, come emerso dai controlli effettuati, aveva nascosto nel vano portoggetti laterale della portiera della vettura una bomba carta del peso di 100 grammi circa. Gli operanti hanno poi esteso la perquisizione presso l'abitazione, dove in cantina hanno trovato un'altra delle stesse fattezze caratteristiche, oltre a 9 grammi di marijuana trovati invece in sala da pranzo. Il giovane, che ha giustificato il possesso delle bombe carta come rimanenza di capodanno, è stato arrestato e tradotto in carcere a Torino. Le bombe carta e la droga sono state sottoposte al viscolo del sequestro penale.